Buongiorno all'assessore Caterina Miraccia. Intanto io porto il saluto dal Presidente Caldoro, il quale è impegnato in una giunta e quindi ha consegnato a me gli auguri e i complimenti per questa straordinaria iniziativa che stasera celebra ancora una volta il segno della continuità di un istituto di alta formazione riconosciuto dalla Regione Campania e che ha dato già prova di sé, ma che con stasera segna definitivamente quello che è il passaggio della cultura rappresentata dai paesi del Mediterraneo. Che la Regione abbia una grande attenzione verso le culture dei paesi del Mediterraneo è dimostrato dalle tante iniziative. Voglio ricordare solamente la mostra dell'Oltremare che ha tra i suoi impegni quello di creare un polo che rappresenti, ma diciamo la verità, la Regione ha consegnato al Presidente Capasso, al quale rinnovo assolutamente tutta la nostra gratitudine, ha consegnato la fila di un discorso che torni indietro in quelli che sono rapporti che l'Italia, ma in particolar modo la Regione Campania, ha sempre mantenuto con i paesi del Mediterraneo. A nessuno di noi svolge che tutti gli studi li abbiamo sempre attraversati attraverso i rapporti che storicamente hanno fondato le culture del Mediterraneo e la nostra cultura. Siamo tutti, abbiamo negli occhi, immagine di Cartagine che va al solo quella per significare quanto profondamente vi sia uno scambio reale, non solamente culturale, ma basato su tanti rapporti. Va da sé che un'occasione straordinaria come quella di stasera, che inaugura anche una sala delle preghiere, è un segno tangibile di quello che deve essere il rapporto franco, trasparente e significativo con le popolazioni che qua oggi sono così straordinariamente rappresentate dai signori ambasciatori e quale consegno ancora il ringraziamento del Presidente Cattoro e che attraverso il Ministero degli Esteri, quindi la Fonte Suprema del nostro riferimento, possa far nascere a Napoli e all'interno della nostra regione un rapporto di collaborazione proficuo e sostanziale che sicuramente, capitanato dal Dottore Capasso, vorrà ulteriori frutti, oltre quello straordinario di stasera, di inaugurare un museo che consegna attraverso le sue memorie quelle che sono i nostri rapporti e che ci indica sicuramente quali saranno i nostri rapporti futuri. Grazie ancora, auguri e continuiamo così. Grazie, grazie. Grazie a tutti.